Nei giorni scorsi, personale della locale divisione Pasi, squadra amministrativa unitamente a personale della società Congesi di Crotone, ha effettuato alcuni controlli amministrativi nei confronti di esercizi commerciali insistenti in questo centro. Nello specifico, il controllo è stato effettuato nei confronti di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande pizzeria, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pizzeria, frigitoria, praninoteca, un'attività di asilo nido ed infine un'attività di laboratorio artigianale tappezzeria. Nella circostanza, al termine delle verifiche tecniche effettuate nei locali dove vengono svolte le predette attività, è stato rilevato l'allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. Pertanto i titolari delle quattro attività commerciali sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di furto aggravato. I controlli amministrativi già in atto da tempo proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati in questo periodo, su indicazione del questore di Crotone anche nei confronti di altre attività commerciali.